Settimo appuntamento, ciao ragazzi e ragazze, grazie a tutti degli auguri di buon compleanno. Questa è una puntata speciale del Megamix numero 7 appunto perché metterò solo canzoni fatte a casa mia, come quando andate al ristorante e vi fanno sicuro fare la specialità della casa. Io vi faccio sentire un po' delle canzoni fatte negli ultimi anni in versioni magari anche un po' diverse da quelle che siete abituati ad ascoltare. Quindi Megamix numero 7, settimo episodio del Megamix, il podcast di Morella, non qui su iTunes. Grazie a tutti degli auguri, ciao!